Bentornati ragazzi e ragazze su Pokémon Giallo Allora Manca un ultimo Pokémon leggendario Il mitico, il protagonista Si può dire così Di questo gioco Però Ci serve Se non sbagliamo Sia taglio che Per non rischiare, non è che sono sicuro Sì, per non rischiare Cos'è, sia taglio che Ok Più di qua Ok Vediamo un po' Cosa devo fare? C'era una però Eccoti Sono qui per avere il mio Pokémon tipo fungo Sarà velenoso Pupa Paras Andiamo di foglie lama Dobbiamo battere come niente Il grande allenatore Il grande allenatore Ma non volevo cambiare Perdi un turno per fare un colpetto a sto schifo Ma non è che allenatore Ma non voglio cambiare Pokémon Taci È normale che dopo Che scempio Metti Charizard Ma non ho voglia No, è normale che dopo si gioca un po' così Sì Certo Tanto ormai la Lega l'abbiamo fatta Quindi Ti può anche permettere di giocare un po' tanto per Ti sanguizio che ti sanguia tu Sto giocando a tanto per adesso Per due palle Ma finisci Eh vabbè Non pensavo durassi così tanto Sto a cambio dai E che uso? C'ha il fuoco Abbiamo lasciato Il grande allenatore Il grande allenatore Il grande allenatore Il me l'ha dimenticato Eh bravo Bravo Dimentica Due secondi sono passati Eh oh Sono vecchi Eh Però vedi Ho risolto Pignone 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 ho risolto subito Io lo facevo apposta Lo facevo apposta io Ragionando del D'Ostoy Sì Sì Ragionando Era giusto Charizard Ma Anche io dicevo era giusto fuoco Ma non avevo voglia Ma te non c'hai voglia neanche di farti le tere Probabile che No No hai ragione Vai va No ma no Ma dove andare nella grotta Indietro Vai va di nuovo Eh adesso Eh li fai tu Vai va E che cazzo ne so A che ne so A che ne so che dicevi indietro No È qui Non posso andare Non posso Sì ma devo Sì è qui nel senso È qui Era qui Ho capito No 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 non mi ha fatto Che ne so io Non sono come te Perché di là siamo andati prima? Per vedere cosa c'era Non si fa sempre così Non l'ho visto tutto Sei saltato giù Ma ci erano già passati di là Allora ok Che ne so Che casino qua dentro Per prendere quel porco di Mewtwo E bravo l'hai detto E l'idier max L'hai spoilerato Ma lo sanno anche i cani che c'è Mewtwo qua dentro Dai vogliono solo vedere Con la master ball veloce Fammi usare il pendente va Solo che ci sono i mostri qua dentro Noi tanto prendiamo Ultra ball Meno male che avevo il repellente Non ce l'avevo Come mai mi uscì 57 57 Non è abbastanza potente il repellente Ho usato quello max Non è Non va Non va Non va potenti i pokemon Ok Mewtwo dove sei Ok Lo vuoi? No ce l'abbiamo già 60 60 Chissà Mewtwo quant'è 100 Bello qua Siamo al posto giusto Ecco no Praticamente tu devi salire In uno di questi c'è quello giusto Lì c'è l'acqua Qui c'è una scala Tratta finale Prova qui Continua Purti Purti Lì Ovunque Ovunque Mi rifà il giro Sì Sì Siamo duri un po' Sì Forse c'era giusto Stiamo salendo su Sì Forse ci sei No Aspetta Tanto Più cose prendo Meglio Eh Devi salire su di lì È l'unica strada Vabbè lo uso di nuovo Usa l'altro però Così per provare Ma l'altro è debole Però è super Dov'è Aspetta C'è scritto super Questo sto usando Prova il super Ah Proprio subito Creme la rana Vediamo Pikachu Però 76 Però Eh Non puoi vedere Andiamo a vedere Niente Aspetta Mewtwo Da qualche parte Qua Oh Sembra buona La strada Oh 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 Eh Devo seguire Ormai C'è solo una strada Da seguire Nessuno c'è Eh Qua dove Oh Ragazzi Che Pokémon Lo vuoi? Prendelo subito Sessanto Cosa uso? Eh Fai Tornifero Foglia lama Ma per lo sta Che Pokémon Ragazzi Sessanta Perché Vamo subito Qui a prenderli Senza doverli allenare Eh no Non si può C'è l'omino davanti Ovviamente Sperando che Non lo uccide Non lo sapevo Vabbè Andiamo per la sfera E di Weermack Ci siamo Salva salva Che magari riesce qualcosa Tra quei due linei Sembra strano O sono due Pokémon Due regali Metti così Però anche di qua Ti può dare Eh adesso Andiamo dappertutto Mi sembrava Che ci voleva taglio Ne è servito in casa Ok Che c'è che da tutte ste cose Non si sa Eh Ultra Volla go go E vai di qua Che c'è qualcosa Mi sa Vediamo cosa c'è Un grattador Non ve lo ricordo più Oh No YouTube dove sei? Bravissimo Prendilo Fai frustata E basta Andiamo di frustata Prima che poi gliela Faccio adesso Poi sonnifero Buono Faccio sonnifero Perfetto Vediamo Io voglio Perché YouTube Voglio prenderlo Con le Ultra Ball Ci proviamo Se ci riusciamo Non le spreco qua Eh Chi è? Dovrebbe andare Dai Non ha più vita Non ha più Addormentato No Vai 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 Non ha più Eh vai Non è YouTube Proprio Lo teniamo Le Ultra Ball Per Mewtwo No Preso Bel Pokémon Vediamo che potere ha Guaccia La sua lingua lunga Circa un metro Si muove Velocissima Si colpisce Paralida L'avversario Ok Soprannome No Ci siamo Ancora Mewtwo Sembrava Sti muovetti Con la sfera Vai Golbat 60 Mewtwo 90 Ultra Ball Di nuovo Ti servono Oh madonna Quanti Pokémon Bello Stavolta Non mi deludere Come l'abbiamo sconfitto Prima Fai Infrustate Bad Speriamo Però ci sta Vabbè Tanto possiamo Abbiamo Revitalizzazione Come cazzo Si chiama Eh no Eh no L'abbiamo Ucciso E tagliamo Livello 56 Che sfiga Che sfiga Infatti nel cartone Mewtwo Era nella grotta No Mi ricordo 65 Si volgeva Dai Ce l'abbiamo Già Come fai Un 65 Eccolo L'ho L'ho Trovato L'ho 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 Però prima di Eh Penso la grotta Più incasinata Che abbiamo mai fatto Vabbè L'ultima Eccolo lì E' lui E' lui E' lui E' lui Vabbè Tu salva Quando arrivi Allora Pokémon Carica poi Venusaur Si si carico tutti Interfetta repellente Ok Salviamo Ricarica Venusaur Che Servirà Prova Proviamo A prenderlo Così Poi Se hai Pugiamo La master Ok Ragazzi Vai Miu 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 E' la Mewtwo Ah Perché ti ha chiesto Mew Per farti venire una cosa al cuo Fare Mewtwo Selvatico C'è tanta Tanta ragazzi Ok Ok Dai Prendilo Ok E poi finisce la nostra serie In gloria Foglie lama Eh no Ci ha già attaccati lui per primo Lui è tormentato Eh ma avevo paolo che mi attaccava lo stesso Va va Volevo togli Forza dai No Vedi Vedi E poi lo attacco con Tauros e Oddish Pensavo ci voleva forte Eh Pensavi E mo No Un colpo di riuscire a darglielo con Blastoise Piga E ci proviamo Solo il gelo Gelo Una ghiacciata con le chiappe Eh no Come te Ti lancia proprio i pianeti in test No no Aspetta Dai che lo congeli Se lo congeli è fatta Dai Ripresa Prova a lanciarla Una mask Una Quella normale Vedere magari In un colpo Tira un urlo Che E' una ripresa Usa surf Idropompa Vabbè adesso lo uso To protect Dai vai vai Con surf Qualcosa li togliamo Dai 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 Di nuovo No lancia la sfera Subito Ma si si ricarica sempre Boh Non ha senso La ultra Si si ma Non ci siamo riusciti Ma va bene Fammi fare ancora Idropompa Tanto al marchio Vado E' un pikachu Ok Eh no Proviamo No vedi Eh vabbè E' il mostro Dove contare ad attaccarlo Vabbè c'hai l'ultimo Ne ho altri due Si quelli scarsoni la Si vabbè Cosa uso Vai un bel fulminone Oh Dai una svegliata Sto miso 76 contro 70 Là c'è sta sfera Non ancora Fammi togliere ancora un po' La fai tu Eh beh ormai no 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 Adesso l'ucci No vedi Ok Buono 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 La ripresa Ah cacchio E allora Un altro fulmine Ti stancherà di fare la ripresa Ok Dai lancia Svelo potevi paralizzare Sì e poi Paralizzalo Sì adesso lo paralizzo Tanto se ti toglie usa la pozione Ne abbiamo 20 Tu non dà Perfetto Dici di catturarlo con l'ultra ball Proviamo finché non ti colpisce dai Poi Marica la Pikachu allora Sì sì Vabbè tanto possiamo farlo risuscitare Eh ordine Per forza perché sennò sono un casino Revitalizzazione Questa c'è Puoi fare sia lui che Pikachu Blastoise Sì le faccio già adesso O mi attacca prima e poi Che cool Blastoise Se riusciamo a prendere con l'ultra ball Ah Ma come facciare i titoli Ma io Butterei anche Taurus Una calciata Azione dai Pestone Ok Dai che tentenna Forza Vabbè dai Ah ripresa Surf Drop Ompa Quelli lo uccidi No Dice che lo uccido Ah dai Lo uso ancora uno Eh no Di più Tanto Paralizzato E paralizzato Sprechiamo le idropompe Ma lui se vuoi si ricarica Sì ma prima o poi Per un bel po' non si Ahia Lanciala La chiudiamo qua Ma non riusciamo Dovevo attaccarla ancora un po' Dai 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 Un'altra idropompe No Dico lancia con la la Ah no Non più Vabbè l'altro è l'ultimo La master Sì Per ultimo No Ok Vedete riusciamo a catturarlo così No No Mi sa quanti punti da se lo batti 10.000 Cosa faccio Prima La vitalizzazione Oh Non hai subito la master No Prova ancora una Questa qui No Si può Si può Si può però C'è un casino Cosa uscio Cosa uscio Cosa Buono Uscio ancora uno Buono No Ripresa Vai 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 che lo deboliamo Dai basta lancia la master Allora aspetta che No 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 Non abbiamo più pokemon Questo è il peccato che hai fatto Vai tentativo numero 2 Quando arriva l'ultimo pokemon Lo catturiamo Tanto Facciamo addormentare E si è addormentato No Di nuovo Solo a raggio Dai si è svegliato Allora è buono Dai Lo addormentiamo di nuovo Perfetto Poi glielama Tanto che dorme Buono Continuiamo Sì è che lo catturo solo con Venusaur Dai ancora uno Lancia 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 la master Adesso la lancio Buono Buono O lo addormento prima Buono Vuoi che provo con le ultra Beh proviamo Se non ce la fai Poi Pikachu e master Ball Sì Oh Uh Dai che dorme Quindi con l'ultra ball Nessuno l'ha preso con l'ultra ball Con la poke ball Con le poke ball lo facciamo Dai che sto dormendo Un'altra serie con le poke ball Eh Oddio Con l'ultra ball Eh lo abbiamo preso Cosa ce la facciamo con l'ultra ball Dell'aur Della master ball E lo abbiamo preso a Mewtwo Con l'ultra ball E con Venusaur Tenta neanche ricaricarlo Il suo DNA è quasi uguale a quello di Mew Mew Ok Tuttavia le dimensioni e il carattere Sono agli antipodi Vuoi dare un soprannome? No Traspetto al pc di B Vola Vallo a prendere Catturato Allora Pokemon Possa Con le ultra ball Andiamo subito a provarlo Vedi che c'era tante ultra ball Vuol dire che bastavano anche le ultra ball Sì ma cosa in un colpo Quindi in Youtube Vabbè proviamo in ordine di come li abbiamo catturati Prima Moltres Poi Articuno Vuoi Zappo e poi Mewtwo Ok ragazzi Vi faccio vedere il nostro squadrone Moltres Bellissimo Posso cambiare Ma no ma io dico Fai vedere Mewtwo In combattimento Che bossi ha Intanto vi faccio vedere il nostro squadrone nuovo Articuno Ma che bello Che bello Zappdos Eccolo qui E Mewtwo Mostro E poi abbiamo tenuto Blastoise E Pikachu Per far vedere come il combatte Allora andiamo Dove? C'è qualcosa che non abbiamo ancora visto Fatto Fatto Preso Niente Dobbiamo ritornare là Sono più forti là Va Ok Così andiamo Così andiamo a vedere altre cose Lì come si dice Allora facciamo una cosa Ma cos'è che cazzo di giro devi fare lì? Lascia stare A massimo usiamo forza per tornare indietro Ok Non va già bene Perché? Non lo so Che schifo Che c'è lo spettacchiato Tu vuoi solo vedere il Mewtwo? No vabbè Fa vedere le vostre piccià Mewtwo? Ah no Quello di Che schifo Vabbè Usiamo turbo fuoco Vediamo un po' cosa gli facciamo M'attimo lo catturiamo Ci mancava no? Ma non gli facciamo niente Effettivamente hai ragione Eh no Però è un leggendario Che attacca sempre Non è male eh No no Ancora uno Beccata Ma no Vediamo un togli di poco Top Ancora uno Per togli di poco poco Ok No Che sfiga Che sfiga Vediamo se resiste Se è forte Si è forte Esausto Cambia Metti Articuno Perché andavi di lo trovavi Secondo me Questo ce l'hai? Mi do Allora dobbiamo vedere come attaccano Non hanno attacchi Geloraggio Fuocobomba L'altro elettro E poi beccata Sono uccelli Io devi segnare qualcosa di nuovo Vabbè Faccio fuga O continuo Cioè proprio Fai vedere Sabato 6 minuti E poi esci Rimai rotto il cazzo Di girare qua dentro Io invece voglio Beccare Vedete Non può Subito Eh Cosa elettro No Non è efficace Esci Vabbè dai Attacchiamo No Esci Un super saiyan Che sto qua No Ho sbagliato la strada Dai Era qui E' qui Vai Qui Perché fai con la testa Allora Ok Caramella rara Tutto sto casino Raga Era una merda rara Te l'ho detto Ci serviva Era 77 Il pokemon più forte del gioco Oh no Aspetta Pi forte di Mewtwo Si Se c'è quello lì Pipistrelle Ecco Perfetto Ok Sono shock Ma no Eh Pensavo Di solito Sempre giù Eh ho capito Ma di solito Sempre giù Vole più forte Come negli altri Questi a 50 Hanno già 160 Punti di vita I nostri a 50 Avevano 320 120 Ah Ci siamo colpiti da soli Cioè Più forte di Venusaur A sto punto Ok E tu non so Questi allenati Sono i più forti Anche i notti Allenati Non sono leggendari No E adesso devi provare Mewtwo Con lui Subito provalo Così sdoppia Due Mewtwo Vediamo Ci catturiamo due Mewtwo Sempre se non lo battiamo subito Tu fai un attacco Che non lo batte E vediamo che attacchia Eccolo Mewtwo Due Mewtwo Allora Comete Psicico Barriera ripresa Un cadabra Un cadabra Praticamente Non è molto ficato No perché è il mio tu Sì Facciamo comete Niente Guarda quanti punti c'ha Sì Ma il psichico Buono Abbiamo battuto Un altro rivale Ok ragazzi Adesso Abbiamo ancora un altro Solo con Mewtwo Direttamente Ultimo Psichico Nel film Nel cartone Mi ricordo che Mewtwo Era comandato da Giovanni Aveva tutta l'armatura E poi lui si è ribellato E è volato via Sì Peccasco Perché nel gioco Non c'è Giovanni Non l'hanno fatto Come il cartone Traversato più bello Ok ragazzi Basta Io direi basta Andiamo con Fossa E non ce l'abbiamo Questo è molto male Questo è molto male Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Ma io direi di staccare qua Basta No Devi tornare lì E dire ciao Finito qua Di soffrire dentro Sto già soffrendo Con te accanto Sì è vero Scappavano Ok Fai Ok Fino lì Ah no Devo girarmi Allora E per far vedere Che noi Non ci piacciono i leggendari Riprendiamo i nostri Perché è la nostra squadra Del cuore Che abbiamo battuto Tutto la lega Intanto li lasciamo Con tutta la vita Ho in mente una cosa Prima di concludere La nostra avventura Quale box Liberarmi tu Liberarli tu Quale box Quattro Li liberiamo tutti Perché noi siamo buoni C'è il vecchietto Che cura Che allena il pokemon Come si chiama Io li do Io li do Pikachu Perché Quindi se lo tiene No Pikachu piange Arriva a livello 100 Oh guarda Pikachu Com'è C'è il cuore Guarda che piange È arrivato al massimo No vabbè Sì Fidati Sta insieme a noi Finisce qua Allora li diamo Mewtwo a lui Se li torni Tutto spopolato Ma ci sta Come idea Se li torni Vedi la casa di sottolotta Chissà cosa pensa Cosa dice Mewtwo Non ti dice niente Il tuo Mewtwo è cresciuto In che accento Ok ragazzi Salviamo Io direi che Io vi ringrazio Per aver seguito Con noi questa serie 80 pokemon 80 fisse Puoi vedere Ash Gli dà Allora Dov'è Ash Come potete vedere Tempo Soldi Denaro Fatica 60 In un'ora L'abbiamo fatto 58 minuti In un'ora Un'ora è vero E che noi dicevamo 58 ore Per un minuto Un'ora abbiamo fatto tutto il gioco Ciao raga Ciao raga Ciao raga Grazie a tutti.